Il Comune di Napoli seleziona volontari per la collina di Argo, il centro comunale per l'accoglienza dei cani che possono essere adottati dai cittadini. Ci sono slanci, emozioni, esperienze e conoscenze con altri volontari. È un arricchimento sicuramente sia per il volontario, sia per la struttura pubblica, ma soprattutto per l'animale. Quella fascia oraria che il volontario dedica all'animale, sempre sotto la supervisione di un veterinario, che è il direttore sanitario del canile, è tutto tempo di benessere per l'animale perché ha l'accudimento dell'uomo. Nel 2022 sono circa 39 cani entrati in canile e 19 sono stati adottati. I volontari saranno scelti in base ad un colloquio e seguiranno un corso di formazione curato dall'ASL Napoli 1. A fine del percorso di formazione di aula e di campo stesso lì alla collina di Argo, viene rilasciato al volontario anche un attestato. Grazie. 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 Grazie.